Ciao a tutti ragazzi, sono passato in questo nuovo video perché non ci vado un altro Vedete il pacone? Apriamo, vediamo cosa si trova Cosa c'è in bacchetta questo? Vai, qual è l'aperto? L'aperto tu? E vediamo Guarda come cosa c'è Palloni Ancora c'è altro, l'altro Palloni Tre palloni Tre palloni Tre palloni Wow, grazie Sempre palloni Andranno bene che sono i palloni Come è questo? Comunque grazie Chiabi Ragazzi ci vediamo nel prossimo video Iscrivetevi al canale Lasciate un like DJ che il prossimo pacco che mi arriverà L'ho messo lì sopra così Vabbè raga Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti